Ciao, come ti chiami? Mario. Qual è l'idea? No, l'idea non è noi. Qual è l'idea? L'idea è di creare degli appunti di agio digitali. Tutto qua? Tutto qua, poi non te la dico in 30 secondi. Va bene, seguiremo il pitch dopo, allora riportiamo tutti a guardare il pitch dopo. Ok, ciao.